Sono bravo, guarda la mia faccia, io non vado a casa, io non sono malattia, sono nero, ma dammi a rentrare di me, eh. Guardate un po'. Cosa dire? Non ci sono parole per questi soggetti. Guardate. Senza mascherine, senza niente, ecco, vedete? Privi di regola. Le regole valgono per tutti. Mascherine. Vedete? Entrano così alla rinfusa. Entrano così alla rinfusa, senza rispettare le regole.